io l'ho basta il colore ma che sento nel pacchetto che se ti butti quando c'è l'ascensore giorno 30 anni da caduta ti amo tutto sbagliatissimo però mi ucciderò però non faccio lo stesso perché faccio contatto di crederci wow crack non rilog infatti salvi tu salvo io George salvo non ho capito neanche un secondo